salve a tutti sono mario contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale universo del mistero oggi vi parlerò del fenomeno della pareidolia nel ghost hunting prima però vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video nell'ambito del paranormale del ghost hunting quante volte abbiamo visto immagini ritraenti luoghi o cose del tutto normali ma accompagnate dalla solita domanda voi cosa ci vedete questa è la domanda più stupida e priva di logica che un ricercatore potrebbe porre soprattutto in relazione a video attinenti le ricerche su presunti fenomeni paranormali o in relazione a fotografie pubblicate sui principali social network in seguito alla domanda precedentemente indicata parte la solita carrellata di risposte più ridicole che si possa immaginare gente che è capace di vedere un demone in un calzino o uno spirito in una macchia di caffè schizzata sul muro la cosa più grave è che i sedicenti ricercatori avallano molte di queste bizarre teorie dimenticandosi del fenomeno della pareidolia la pareidolia è un fenomeno che ogni vero ricercatore deve o dovrebbe conoscere la domanda da porre e da porsi non è voi cosa vedete ma piuttosto cosa è ciò che ho fotografato o ripreso una macchia di caffè è esattamente ciò che è ossia una macchia di caffè indipendentemente dalla forma o dall'immagine che tale macchia rievoca nella nostra mente ma torniamo alla pareidolia la nostra mente è abituata a mettere ordine ed ordinare tutto secondo schemi noti e mai casuali quindi tende a ricondurre immagini che nulla hanno a che fare con forme note ad immagini note quasi sempre volti per lo stesso motivo possiamo scorgere volti o animali nelle nuvole nelle macchie di umido su un vecchio muro o nel gioco di luci ed ombre offerto dal riflesso su una superficie metallica irregolare finora la scienza non era stata in grado di fornire una spiegazione chiara ed esaustiva del perché il cervello umano elabori segnali visivi e li interpreti come visi umani anche quando visi umani non lo sono nella sostanza ma un recente studio condotto da un e dai neuroscienziati dell'università di sydney sembra aver svelato l'arcano il professor devin elise autore dello studio afferma che da un punto di vista evolutivo sembra che il beneficio di non perdersi un volto supera gli errori derivanti dall'interpretare erroneamente gli oggetti come dei volti che in realtà non esistono identificare velocemente i volti umani rappresenta un beneficio ma il sistema che abbiamo nella nostra mente applica un semplice schema a qualsiasi cosa che sembri avere due occhi sopra un naso e una bocca molte cose possono soddisfare questo schema mentale e quindi ingannare il nostro cervello del resto il processo di riconoscimento del volto umano dura meno di un secondo la pareidolia spiega la maggior parte delle fotografie che numerosissimi ghost hunter propongono come prova certa dell'esistenza di esseri spiritici di varia natura questi ultimi pseudo ricercatori non prendono neanche in considerazione il fenomeno della pareidolia e in tal modo finiscono con il dimenticare la cosa più importante ossia di cercare di ottenere una prova tangibile dell'evento al di là dell'identificazione dello stesso all'interno del contesto folcloristico ossia spettro folletto demone eccetera in base all'impressione che si ha nell'osservare la fotografia ottenuta infatti la nostra mente insieme al riconoscimento del volto in forme astratte innesca anche un meccanismo grazie al quale scatta una rapida identificazione della sua espressione ed è questo che consente ad alcuni di dire io vedo un volto cattivo io un volto buono io un volto sofferente eccetera sarebbe molto meglio in caso ad esempio della fotografia ritraente una condensazione biancastra reputata anomala concentrarsi sull'evento in essere sulla sua eventuale composizione biofisica ciò per evitare di trasformare la semplice nebbia in un demone malvagio quindi ragazzi se desiderate fare i ghost hunters scegliete bene gli esempi da imitare soprattutto i gruppi da tenere a debita distanza spero che questo argomento vi sia piaciuto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video